ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di miraclia un gioco da tavolo di rudy piecinski troviamo qui subito le nostre icone 2 5 giocatori 50 minuti la durata attesa 14 più l'indicazione sull'età e il peso sembra essere medio così è come si presenta abbiamo tanto per cambiare marte da terraformare senza tabellone semplicemente tessere affiancate qui abbiamo altre plance la parte dei giocatori la parte personale cubetti tessere dischetti materiali vari ne autore sia del gioco delle regole che della grafica delle illustrazioni rudy precinski e ne è pure l'editore con la sua rudy 3 publishing è stato fatto almeno a livello di design in slovacchia in realtà è stato prodotto in cina come succede con molti kickstarter questo sarà il contenuto 57 essere esagono più una promo kickstarter 60 dischi in legno 103 cubetti traslucidi poi c'è la plancia il tabellone punteggio quello del draft quello dell'ordine dei giocatori ci sono le plance personali due sacchetti da pesca una ciotola di legno con l'asterisco ma non si sa cosa si riferiva cosa si riferisca l'asterisco poi c'è un tabelloncino una plancetta per gli scambi il regolamento e una carta aiuto ma sono anche incluse un'espansione eternità e un'espansione oscurità bene non ci resta che dare una misurata a questa acquista ci sono anche due tessere promo di un altro gioco dell'editore diamo una misurata e poi apriamo sembra quadrata siamo a 25 e 3 per altre tanti e poi vediamo la profondità sono sette centimetri scantola a un peso che direi medio andiamo a controllare il contenuto dunque il libretto delle regole che non è proprio finissimo qui abbiamo i principi regole base l'elenco dei materiali preparazione il round c'è la prima fase dirà di draft poi la terraformazione vari esempi e poi fine partita fine turno fine partita calcolo dei punteggi le promo e le espansioncine varie e poi i riconoscimenti e un pratico una pratica panorama finale qui abbiamo pubblicità dell'altro suo gioco qui ci sono le plancette giocatore che effettivamente sono proprio plancette qui possiamo vedere l'area di scambio di cubetti con gli altri giocatori qui è dove si tengono quelli draftati per convertirli cinque diversi o tre uguali possono essere trasformati in un jolly qua si ricordano le regole di punteggio e quando si terraforma si fa punti con quella terraformata ma si attivano anche quelle intorno sia che siano propri sia che siano avversari la prima volta sono questi valori la seconda e la terza volta che si terraforma sono questi altri qui ricordano altri punteggi tipi di terreno come si piazza e qua i vari bonus di fine partita e la numerosità degli elementi sono cinque plancette identiche poi abbiamo le due promo dell'altro gioco che io non possiedo poi abbiamo il tabellone col punteggio che ha anche gli spazi per le tre tessere nell'offerta poi abbiamo dove si draftano gli elementi gli elementi vengono messi in questi tondini qui vengono messi prima divisi in gruppi per colore rispetto quelli che vengono estratti dal sacchetto i gruppi meno numerosi di qua e i gruppi più numerosi di qua e all'interno a pari numerosità vengono divisi per rarità che è quel valore che abbiamo visto qui sotto quindi i più rari i meno rari in modo che insomma quelli che sono meno numerosi e più rari sono di qua costano di più e quelli che sono invece più comuni e meno rari costano di meno costano di meno nel senso di ordine di turno perché poi in base a dove si piazzerà il proprio disco quando si preleva qui sopra come vedete qui c'è scritto terraforma in ordine sarà l'ordine nella fase nella seconda fase che è quella di terraformazione vediamo se beh ecco la plancia con l'ordine di turno così forse eccola qua un pochino più chiaro allora tenendo tenendo il verde col verde il grigio col grigio vedete che da questa parte c'è il draft in order che è quello che viene usato per fare il draft dei cubetti da qui dopodiché i dischetti usati per prendere i cubetti il proprio dischetto viene preso seguendo la linea e riportato su questa plancetta peccato che la plancetta vada girata per il terraform in order che vuol dire che chi è più in qua in realtà va dopo quindi prendi le robe più rare più preziose ma terraformerai dopo degli altri bene che abbiamo un po di tessere che girano intanto un sacchetto dovrebbero essercene due se qui c'è l'altro se ne è una più grande una più piccola tessere e cubetti non ha stampe né niente la plancia il piattino di legno con l'asterisco chissà quello stesso asterisco qui abbiamo i quattro tipi di terreno che proviamo l'icona che troviamo anche sulle tessere pianure foreste zone d'acqua montagne poi abbiamo questi sono dischetti di legno dei giocatori sono nove grandi e poi tra i piccoli sono il disegno è unico è unico per ogni giocatore al suo spirali lune soli cerchietti cose varie poi abbiamo i dischetti piccoli che ovviamente riportano riportano gli stessi disegni poi abbiamo alcune tessere che si sono già staccate dalle fustelle allora questo è il lato da terraformare che vi dice tipo di terreno ecco qua questo per esempio da un bonus appena viene terraformato e questo è il lato invece terraformato che vi dice che tipo di terreno è e che bonus avete a fine di ogni turno per cui questo qui è immediato questo qui è continuo attivo ci sono varie fustelle con con appunto queste tessere avete una panoramica di quello che viene richiesto altre fustelle vedete alcune tessere si stanno togliendo per cui il taglio dovrebbe essere ben fatto ultime due e l'ultima ok poi abbiamo bustine richiudibili che serviranno se non altro per dividere i dischetti dei vari giocatori e trovarli pronti in fase di preparazione qui abbiamo i cubetti traslucidi che come detto sono in numerosità diversa allora i bianchi e i neri sono i meno numerosi e poi non mi ricordo com'era l'ordine ma insomma ce ne sono di più e di meno questi si vede dovrebbero essere questi più numerosi questi una fase intermedia tiriamone fuori qualcuno così vi faccio vedere anche in mano come faiano questi cubetti traslucidi dovrebbero essere molto carini e poi il gioco è questo insomma c'è la fase di draft la fase di terraformazione e si va avanti finché si raggiunge un numero di tessere relativo al numero dei giocatori come detto ah ecco qua mancava anche questo sì un disco un gettone una plancetta scambio che va in sostituzione dell'angolino che è già presente nelle planche giocatori in modo che non serva andare in giro con lo sguardo a vedere le planche di tutti per capire cosa c'è e cosa non c'è più disponibile avanzato dai turni degli avversari ma semplicemente tutti spostano su questo gettone i propri avanzi in modo che siano a disposizione dei giocatori successivi quindi c'è anche un'interazione di questo tipo questi sono i cubetti dovrei avervi fatto vedere più o meno tutto questa è la carta aiuto giocatore che ricorda anzi i setup in base al numero dei giocatori e poi come sono i piazzamenti qui c'è un'espansioncina questa dovrebbe essere eternità probabilmente che aggiunge praticamente delle caratteristiche alle tessere mettendoci sopra un gettone praticamente alcune tessere potrebbero diventare con due tipi di terreno potrebbero avere dei bonus immediati aggiuntivi dei bonus continuativi e dei punti vittoria secchi da qualche parte dovrebbe esserci anche l'espansione oscurità che sicuramente mi è passata sotto gli occhi non l'ho vista ed eccola qua ad esempio questa è una tessere oscurità perché il terreno è nero e non viene terraformato entra in mappa a dar fastidio e basta bene dovrei avervi detto tutto vi ringrazio e vi ricordo che da questa parte potete esprimere apprezzamento con il vostro pollice da quest'altra potete accendere la campanellina e rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite dei nostri video vi ringrazio per la visione ciao